di ospitare l'ambasciatore e il console della Colombia, faremo infatti un evento all'interno del Palazzo del Podestà, il primo evento ufficiale dopo l'inaugurazione, dove offriremo alla realtà territoriale di Montevarchi, in particolare agli imprenditori, tutte le realtà che hanno nell'ordine di esportazione l'opportunità di un confronto con l'ambasciatore e il console colombiano e a questo incontro sarà presente anche il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, proprio per cercare, come avevamo già detto in precedenza, di far sì che il Comune possa essere un mezzo di collegamento per il nostro tessuto industriale produttivo per cercare di aiutarlo a aumentare, a sviluppare le loro conoscenze e le loro esportazioni all'estero. Abbiamo l'opportunità di spiegare grandi rappresentanti della Colombia, la Colombia è un paese importante negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, è uno dei paesi che ha maggiore sviluppo, ha un PIL che crescita, abbiate loro, nel 4%, quindi pensiamo che possa essere un'opportunità per le imprese del nostro territorio a stringere rapporti commerciali con questa realtà e quindi invitiamo naturalmente tutte le imprese a partecipare, ma anche tutti i cittadini che vorranno assistere a questo dibattito, a questo confronto, a questo momento di informazione per quanto riguarda il mondo colombiano, le imprese, in molto tale da dare un'opportunità appunto come ho già detto al nostro territorio.